All'ultimo assalto, quando ormai il pareggio pareva essere già scritto, Kevin Liguori, entrato nel corso della ripresa, mette a segno la rete che piega la resistenza della Spallanciano e regala all'alba adriatica tre punti significativi. Già perché pur non brillando e concedendosi lunghe pause, gli albenzi la loro parte l'hanno fatta, costruendo diverse situazioni interessanti, specie dopo la mezz'ora del primo tempo, quando hanno deciso di fare sul serio. Decimata da svariate assenze, con sei fuori quota in campo dall'inizio e con il chiaro intento di limitare i danni per portare a casa un risultato positivo in attesa del recupero di mercoledì a Pineto, la Spall ha fatto di necessità virtù, giocandosi la partita con le armi rimaste a disposizione, tant'è che pur soffrendo i frentani hanno tenuto egregiamente il confronto, ma proprio quando sembrava ormai fatta arriva la rete spacca partita di Liguori che punisce la generosità della Spall e firma il meritato successo dei ragazzi di De Amicis. In classifica i rosso-verdi rimangono sulla scia del Mosciano, pronti ad approfittare di eventuali passi falsi di chi li precede. La Spall perde ma non ha sfigurato, con tutti gli effettivi a disposizione potrà rendere la vita complicata a tutti. La Spallanciano per noi era un po' la nostra bestia nera, noi abbiamo perso giù a Lanciano e anche qui oggi ci hanno dato filo da torcere fino alla fine. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché le vittorie al 92 sono sintomo di grande forza, grande unione, chiunque entra, anche Chemi Liguori è entrato alla fine e ha dato il suo contributo per la vittoria. Noi abbiamo fatto il possibile per portare a casa il pareggio cercando di usare le nostre armi, purtroppo in questo periodo sono poche le nostre armi perché tra infortuni e defezioni, però è brutto che persone adulte vengono in faccia a 18 anni che hanno fatto il possibile per portare a casa un pareggio.